Riso baldo, un riso di una varietà più recente, un ottimo incrocio, sempre con metodi naturali. Ottimo per una grande varietà di cose, ottimo per il risotto, per le minestre, per tutto. Diciamo che è un po' intermedio tra il risotto cremoso che si fa con il Sant'Andrea e il risotto a chicchi grandi separati che si fa con il Carnaroli. Un ottimo esempio di ottimo rapporto tra qualità e prezzo.